Le pressioni dei Novax e i medici per ottenere il super green pass arrivano ormai da tutte le categorie sociali e professionali e il contatto di minaccia e denuncia anche in caso di lieve reazione avversa al vaccino. Nel mirino sono soprattutto i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta. Queste segnalazioni arrivano da tutta la Sicilia. La pretesa è sempre la stessa, l'esenzione vaccinale. Ci sono pazienti che arrivano dal medico con un'interminabile lista di esami clinici e strumentali anche rari già preconfezionati nella speranza di trovare una patologia che li esone dalla somministrazione. Ai colleghi lancio un appello. Da chiunque arrivi la minaccia esplicita o velata che sia, respingete sul nascere qualsiasi pretesa di prescrizione inappropriata e agite secondo scienza e coscienza. Ricordo che ogni richiesta di indagine clinica e strumentale deve essere sempre il frutto di un ragionamento clinico per evitare che la prescrizione sia inappropriata. Una circolare ministeriale ha posto una barriera chiara rispetto al diritto dell'esenzione vaccinale e alle patologie che richiedono un approfondimento e esami specifici. Diversarebbe? Sarebbe un falso ideologico. La libera scelta del pediatra o del medico di famiglia si fonda su un rapporto di fiducia che è garantito anche da norme per cui se questa fiducia non dovesse più essere alla base del rapporto, del corretto rapporto, si può anche ricusare il medico o il paziente. Grazie.